Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla grave emergenza idrica che si registra nei scemi. Già la cittadina soffriva la sete, ora a maggior ragione dopo il furto di alcuni cavi di rame che hanno causato l'interruzione dell'energia elettrica e di conseguenza il fermo delle pompe di sollevamento dell'acqua. Rubano centinaia di metri di fili elettrici di rame e la conseguenza è che per la mancanza di energia elettrica si fermano le pompe di sollevamento dell'acqua e Niscemi ripiomba nell'emergenza idrica. E' quanto accaduto nelle ultime ore nella zona della sorgente comunale di Polo. Già la cittadina niscemese soffriva la sete, ora a maggior ragione, fortemente deluso e amareggiato il sindaco Francesco Larosa. Il danno che è stato creato non è al singolo, è una questione, una d'immagine nei confronti della nostra città e poi mantenere a secco una comunità di 30 mila anime, proprio in questo momento, in un momento particolare della vita quotidiana, oggi non ci possiamo permettere minimamente di rimanere senza acqua, perché qualcuno ancora si ostini e continua a perpetrare dei furti verso la collettività. E appunto io ho detto all'Enel immediatamente di attivarsi e andare a posizionare dei gruppi, se questo fosse fatto mi attiverò io in modo immediato, poi vediamo di chi è la colpa, vediamo chi dovrà pagare, ma intanto io mi attiverò subito. Aspetto tutto oggi come siamo rimasti in linea generale all'interno dell'amministrazione e poi vediamo come intervenire in modo immediato, però questi signori non possono rimanere impuniti. Il Comune di Nuscemi dunque sta cercando, quanto prima, di rendere funzionanti le pompe di sollevamento della sorgente Polo con l'installazione e l'uso di gruppi elettrogeni. Allora chiedere a un privato di affittarmi un gruppo elettrogeno per far sì che non si entri nel panico, qua stiamo parlando di qualcosa che è stato voluto dai cittadini che hanno partecipato a un referendum votando per il pubblico, ancora si ostina qualcuno a dare l'acqua al privato e nello stesso tempo dobbiamo subire queste angherie, queste migliaccate da qualche soggetto che, dico io, sicuramente non ha messo in funzione il cervello prima di fare l'azione. E adesso torniamo ad occuparci di quanto è accaduto sabato scorso con i cumuli di spazzatura lasciati da mani ignote sulla strada, indagano i carabinieri. C'è un'indagine dei carabinieri del reparto territoriale di Gela al fine di dare un nome ed un volto a chi sabato scorso in via Rio de Janeiro e Viale Indipendenza ha depositato cumuli di spazzatura sulle due arterie cittadine. Il reato che si profila è quello di abbandono dei rifiuti per strada. Per la giunta messinese quanto è accaduto è opera di individui che hanno agito con furia insensata procurando un danno incalcolabile alla città e a se stessi. A questo si aggiunge anche l'incendio del palatenda a Macchitella. Azioni preordinate dopo che mattinata era stato ripulito il quartiere Manfria. Eppure altre rincara l'amministrazione comunale anziché condannare senza mezzi termini i comportamenti incivili seguendo l'abbrivio che hanno imboccato fin dal primo giorno di insediamento della nuova giunta accusano che amministra senza nulla avere da ridire sui comportamenti malavitosi. Esattamente è come quelle mamme che chiamate dalle maestre per le marachelle dei propri figli difendono a spada tratta la loro maleducazione e accusano le maestre di non saper fare il loro mestiere precostituendo un brutto viatico per il futuro dei propri ragazzi. Al tempo del terrorismo in Italia qualcuno si trincerava dietro i compagni che sbagliano ma ora, dice l'aggiunta, è peggio perché non viene neppure detto che sbagliano ma piuttosto puntano il dito accusatorio su chi sta lottando sin dal primo giorno per risolvere problemi annosi e colossali. La politica che sfrutta in tal modo la munnizza che non sa distinguere, non sa individuare e condannare i comportamenti incivili che si ispirano ad atteggiamenti delinquenziali è destinata essa stessa ad essere ripagata con la stessa moneta. I sedicenti cultori del bello dovrebbero rabbrividire per questi episodi eppure non accade perché l'obiettivo di Costoro è sempre lo stesso, il sindaco e i suoi assessori. Intellettuali spesso incapaci di accorgersi del guasto profondo che causa il giustificazionismo. Altro che libertà di pensiero, qui continua l'amministrazione comunale ci troviamo di fronte ad una schiavitù indotta dalla stessa propria scelta che diviene in tal modo ideologica e con un solo obiettivo. Accada ciò che accada, sia la verità o la menzogna, non importa, questa amministrazione va distrutta. Per l'aggiunta messinese è sorprendente che il Movimento 5 Stelle si preoccupi oggi di ribadire con un comunicato che non appoggia questa amministrazione e che non è pentastellata senza preoccuparsi affatto a stigmatizzare, condannare i gesti di inciviltà ai quali ogni giorno siamo costretti ad assistere. Un danno ulteriore alla nostra realtà urbana che pur di farla pagare a questa giunta, chissà per cosa, hanno abbandonato la città fregandosene dal suo destino sino al punto che i massimi dirigenti del Movimento 5 Stelle a Roma e non solo alzano le spalle quando si parla di Gela. Ma noi andiamo avanti, ha concluso l'amministrazione comunale, perché i progetti per il superamento della crisi maledetta che si è prodotta con la sottoscrizione del protocollo d'intesa sono a buon punto progetti che un'azione congiunta dei nemici della città sta cercando di bloccare. Piazza San Francesco a Gela rimane completamente fruibile dai pedoni. Il sindaco Domenico Messinese, dopo aver sentito numerosi cittadini, ha disposto la rimozione dei primi stalli di sosta tracciati in parte dello slargo. Allo studio vi sono nuove soluzioni per la collocazione degli spazi dei taxi che attualmente permangono nella sede di Corso Vittorio Emanuele. È prevista fino al 30 luglio prossimo presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Gela la presenza di un camper all'interno del quale sarà effettuata gratuitamente la mammografia a tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Ci si potrà presentare anche senza specifico invito. L'esame infatti verrà effettuato ugualmente. Contemporaneamente sarà consegnato agli utenti il kit per eseguire lo screening al colon. L'iniziativa è dell'ASP2 di Caltanissetta che promuove l'importanza della prevenzione per tutte quelle patologie dalle quali si può guarire con una tempestiva diagnosi corretta ad accogliere le donne che si sottoporranno ai controlli. Ci saranno i volontari della FARC che affiancheranno gli operatori dell'azienda sanitaria provinciale. Tottor Samito, si parla tanto in queste ultime ore della mozione presentata in consiglio comunale in merito alla gestione del Vincenzo Presti al Gela Calcio, mozione che poi è stata votata dalla Sede Civica. Adesso è chiaro che l'ultima parola spetta al Comune di Gela, all'amministrazione comunale. Ieri si è tenuta anche una conferenza stampa di alcuni suoi colleghi con altre società sportive ed è emerso un dato particolare che secondo loro questa mozione è discriminatoria. La mozione votata in consiglio comunale era per destinare lo stadio al Gela Calcio. Mozione votata per il semplice fatto che la gestione così come è stata fra tante società ha portato solo degrado all'interno dello Stato. Riguardo alla conferenza stampa fatta dai colleghi dove da qualche parte è uscito fuori il termine regolamento noi vogliamo semplicemente fare una precisazione. Il regolamento è stato già approntato dalla Commissione Sport regolamento che è stato già portato all'ufficio, alla dirigenza aspetta che torni all'ufficio di presidenza per essere deliberato l'ufficio di presidenza apprezzerà ai capigruppo la proposta di delibera e dopo all'interno del consiglio comunale si possono fare tutti gli emendamenti possibili e immaginabili. Solo dopo noi come Commissione chiameremo tutte le società sportive di calcio e non che sono presenti sul territorio e con loro faremo una discussione. Durante la conferenza stampa di ieri è emerso anche un altro dato che secondo alcuni il calcio, il Gela non è soltanto il Gela. Questo è vero, su questo non c'è dubbio, quindi semmai quello che bisogna fare è invitare l'amministrazione a spendersi di più magari creando nuovi spazi, nuovi stadi o migliorando laddove ce ne sia la necessità quello di Macchietella in modo tale che tutti possano avere la giusta visibilità. Però non c'è dubbio sul fatto che se il Gela Calcio è la prima squadra della città e ha necessità legate dalla direttiva e data dalla Lega Nazionale di Lettanti su questo bisogna attenersi e bisogna evitare che dopo sei mesi lo stadio ritorni allo stato di degrato che è oggi. Noi come Consiglio Comunale possiamo semplicemente fare le proposte dopo sarà il Comune, l'amministrazione che se lo riterrà opportuno farà un accordo con il Gela Calcio o meno e su quell'accordo metterà le basi per darglielo o meno con le condizioni che l'amministrazione riterrà opportune. Fatto questo noi non possiamo entrare nel merito di quello che farà l'amministrazione in questo senso, abbiamo semplicemente votato una mozione che dopo può essere o meno accolta dall'amministrazione. Ma secondo lei allora è giusto che lo stadio di Gela Presti sia dato in gestione solo al Gela Calcio? Ritengo che lo stadio vada gestito da chi ha l'interesse a renderlo fruibile a mantenerlo pulito e in ottimo stato che si chiami Gela Calcio o che si chiami Amo Gela a me poco importa. È perfettamente riuscito l'evento sulle identità siciliane al club Vela di Gela. Un pubblico folto e caloroso ha partecipato ieri alla manifestazione organizzata dal club UNESCO preseduto da Giuseppe Nicoletti. La salvaguardia delle tradizioni, della storia, della lingua, dei valori e delle bellezze naturali siciliani è stato il tema del confronto aperto dai saluti dal presidente del club Luigi Nastasi e dal saluto istituzionale dell'assessore alla cultura Francesco Salinitro. A coordinare l'incontro il sociologo e giornalista Francesco Pira docente di comunicazione all'Università di Messina che ha conversato con il grande protagonista della serata il dirigente scolastico Enzo Randazzo, autore del libro Sicilia My Love e con le docenti Gisella Mondino che ha collaborato al volume Daniela Rizzuto e Angela Balistreri. Una serata piena di emozioni grazie agli interventi artistici dell'attore Pippo Puccio, dei poeti Roccovacca e Lorenzo Veritore della cantante Barbara Linguanti. Anche il presidente del club Vela, Luigi Nastasi, ha declamato alcuni sulle versi strappando gli applausi del pubblico. Un pubblico partecipe e capace di scandire con gli applausi la riuscita della serata. Proseguono le iniziative insalite nel cartellone l'estate gelese con la musica colta promossa dalla associazione Amici della Musica Navarra di Gela col patrocinio del Comune. Domenica 31 luglio alle 21.15 nell'ex monastero delle Benedettine è previsto il concerto lirico del trio Angela Curiale, soprano Francesco Cusumano Tenore e Giovanni Raddino, pianoforte. Saranno portate in scena questa sera al Teatro Eschilo di Gela le aree di alcune opere di Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi. Il sipario si aprirà sulla Mediterranean Opera Studio di Filadelfia alle ore 20.30. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Lo spettacolo è patrocinato dagli assessorati alla cultura e agli eventi del Comune retti da Francesco Sarinitro e Eugenio Catania. Sentiamo. Stasera ci sarà la rappresentazione di un'importante opera lirica dei Puccini, di Giacomo Puccini, con Sor Angelica e Gianni Schicchi. Sono due opere. Chi li porterà in scena sono i Mediterranea Opera Studio, il cui coordinatore è Jack Livigny, che abbiamo già conosciuto lo scorso anno. ci sono cantanti professionisti e cantanti che invece sono formati da questa scuola e questa sera sarà sicuramente un evento straordinario. L'ingresso è gratuito, è libero, sicuramente sarà un'occasione unica e irripetibile, quindi l'invito a tutti i cittadini è fermo, è veramente importante. Lo spettacolo sarà rappresentato a partire dalle 20.30. In preparazione, speriamo di poterlo fare, ma daremo presto conferma se ci riusciamo, la traviata, la traviata che in questo caso sarebbe e potrebbe essere rappresentata all'interno delle murali Timoleontè. Un grande evento culturale, gratuito per tutta la città. L'estate è già partita dal 24 luglio, abbiamo fatto già il primo evento alla chiesa di Betlem, Santa Maria di Betlem, con uno spettacolo del Teatro Andidoto e sono partiti altri spettacoli effettuati dall'Associazione Navarra dai Benedettini. Ma la parte clou dell'estate verrà presentata giovedì, in cui ci sarà tutto il calendario degli eventi, che spaziano da musica, dal vivo, a altre attività culturali, anche sul lungomare di Gera. Tutta la città sarà coinvolta nell'estate, abbiamo cercato di fare più di 100 eventi nel corso dell'estate, che si concluderà il 25 settembre. Si darà domani, il 28 e il 29 luglio, il corso di formazione di primo e secondo livello rivolto ai volontari delle associazioni aderenti al Coresa, il coordinamento regionale sanità. L'evento è organizzato da Pubblica Assistenza Procivis, Protezione Civile, in collaborazione con l'assessorato alla salute della regione siciliana e si terrà nei locali di Via Ossidiana, al numero 23. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Reccoci, seconda parte del telegiornale. Nell'ambito del percorso formativo Anche tu puoi salvare una vita, l'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia, coordinata da Orazio Coccomini, organizza un corso di formazione come esecutore di BLSD. L'iniziativa si svolgerà sabato 30 luglio, con inizio alle 9, presso l'aula formazione della sede operativa di Via Falcone, in contrada Brucazzi a Gela. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 28 luglio. Gli interessanti per informazioni ed iscrizioni possono telefonare allo 0933 91 44 19. C'è anche un indirizzo di posta elettronica, giubbe d'Italia, gela, chiocciola, hotmail.com ed anche la pagina Facebook Giubbe d'Italia, gela. Angelo Ferreira, siamo alla conclusione del Grest Stivo 2016, che ha coinvolto numerosi ragazzi ma anche adulti. Il Movimento Giovanile San Francesco sta organizzando, proprio per il fine settimana, una o due giorni da dedicare interamente a coloro i quali hanno aderito al progetto. Ancora una volta, voi cercherete di riconoscere ai più bravi, se vogliamo, ai più meritevoli, anche un piccolo omaggio, un premio. Sì, l'idea nasce proprio dal riconoscimento nei nostri ragazzi di quelli che sono i talenti che il Signore ha donato loro. E allora attraverso l'esperienza del Grest abbiamo avuto l'opportunità non solo di permettere a questi ragazzi di far emergere questi talenti, ma di donarli agli altri. Ecco perché il sabato e domenica diventeranno due giorni dove tutti quanti siamo chiamati ad assistere a questo spettacolo di musica, di arte, ma anche una o due giorni dove anche la comunità deve riflettere. Perché dico, se una città che soffre, una città che è in crisi, in realtà ha ragazzi, ha talenti del genere, è giusto sostenerli. Noi in primis lo facciamo nel nostro piccolo, dando loro un'opportunità di crescita diversa, ma diventa anche un monito, anche per l'amministrazione comunale, a collaborare con le realtà presenti, affinché si possa costruire davvero qualcosa di importante per i nostri ragazzi. Avete anche individuato un ospite d'eccezione, che è molto seguito, soprattutto dai più giovani. Sì, in realtà la presenza di Christian Imparato vuole diventare un monito anche per i ragazzi a voler costruire su se stessi quello che è il loro futuro. Ecco perché abbiamo invitato Christian Imparato, che noto che è molto conosciuto, forse l'unico che non lo conoscevo ero io, e quindi diventa anche un'opportunità per la nostra comunità gelese di vivere quella che è l'estate gelese, che ci auguriamo tutti quanti possa iniziare al più presto, nonostante l'estate si stia quasi concludendo. Però siamo abituati a vivere l'estate gelese in agosto, quindi stiamo semplicemente anticipando e non ci stiamo sostituendo all'amministrazione comunale, perché sa bene cosa deve fare. Noi vogliamo semplicemente fare questo regalo ai nostri ragazzi e certamente alla nostra comunità. Ecco ricordiamo anche il luogo in cui poi si svilupperanno i giorni. Sabato e domenica alle ore 21 in Piazza San Francesco. In realtà l'appuntamento più importante per noi ragazzi cristiani è domenica alle ore 19 con la celebrazione eucaristica e lo spettacolo dei ragazzi del Gresse. Primo trofeo bodistico Ivan Siciliano si darà domenica 31 luglio prossimo a Marina di Accate. L'iniziativa è della situazione contro le stragi del sabato sera presieduta da Salvatore Siciliano in collaborazione con l'atletica Padua Ragusa e l'atletica Mazzarino. La gara che avrà inizio alle 17.30 è valevole come undicesima prova del Grand Prix Provinciale Senior Master. Le iscrizioni possono essere effettuate entro domani all'indirizzo mail siciliachiocciolamaisdam.it Arriva anche a Gela l'onda contagiosa dei ragazzi del Tour Giallo. Appuntamento previsto dal 16 al 21 agosto prossimi. In un periodo in cui il mondo sceglie la superficialità, la violenza, l'intoleranza ecco un gruppo di giovanissimi che hanno preferito investire sul loro periodo di vacanza a proprie spese per andare nelle spiagge e nelle piazze di tutta Italia offrendo animazione gratuita e giocoleria di strada ad adulti, adolescenti e bambini. Il loro obiettivo è quello di trasmettere quei valori che purtroppo vanno sempre più a mancare amicizie, perdono, toleranza, aiuto verso chi ha bisogno solidarietà, un orecchio attento verso la comprensione del prossimo. Saranno in 60 provenienti da tutta Italia e saranno facilmente individuabili. Saranno tutti vestiti di giallo. I 60 giovanissimi verranno ospitati in palestre, chiese, campeggi, tende per i più romantici anche in sacchiappelo al chiaro di luna e si adatteranno al buon cuore di coloro che li ospiteranno. Proporranno gratuitamente attività recreative, dinamiche sportive, acqua gym, risveglio muscolare, balli di gruppo, spettacoli, animazioni, musica nelle spiagge, nelle piazze, dal centro città, lungo le passeggiate, nelle zone balneari. Il programma giolese si svilupperà dalle 10 alle 13 e dalle 21 alle 23. Martedì 16 agosto animazione alla Lungomare vicino alla Capitineria di Porto e in piazza San Francesco. Il 17 agosto al Club Vela e spettacolo serale in piazza Roma. Il 18 nei pressi della Capitineria di Porto e la sera a Macchitella. Il giorno dopo a Rotonda Macchitella e piazza Umberto I. Il 20 agosto sempre nei pressi della Capitineria di Porto e la sera in piazza Salandra. Il 21 agosto invece sarà proposto un gospel nei locali di Palazzo Pignatelli. Proseguono gli appuntamenti con Teatro sotto le stelle all'arena all'aperto dell'antitodo di Macchitella a Gela. Oggi alle 21 e 30 è prevista la rappresentazione dal titolo a Iudeca e caduta una stella. Ricordiamo che il prezzo del biglietto è di 5 euro a coppia. Venerdì 29 luglio sempre alle 21 e 30 la compagnia teatrale La Svolta porterà in scena il marito di mio figlio. Sabato 30 luglio sempre alle 21 e 30 salirà sul palco Giobbe Covatta. In questo caso il biglietto costa 10 euro. Abbiamo concluso anche per oggi. Grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni.